Ennesimo traguardo raggiunto e altra medaglia, questa volta di bronzo, conquistata. Stiamo parlando di Mirko Scarantino, che ai mondiali di pesistica olimpica di Ashgabat in Turkmenistan ha conquistato il bronzo. Esulta la sua città, Caltanissetta, che in un certo senso è salita con Scarantino sul podio. Il sindaco Giovanni Rubolo e l'assessore allo sport Carlo Campione si congratulano con il pesista Nisseno per il risultato conseguito e affermano, una medaglia ai mondiali è una bella notizia che sprona tutto il movimento della pesistica a Caltanissetta, oltre a proiettare Mirko nel percorso verso le Olimpiadi del 2020. L'amministrazione comunale esprime il suo applauso anche per la buona prova della Nissena Alessandra Pagliaro, classificatasi al quinto posto nel totale.